L'estate è lontana a pochi giorni, il caldo già forte e una capri gremita di turisti, non solo nella famigerata piazzetta, anche sulle spiagge e in mare. I carabinieri della compagnia di Sorrento, secondo le disposizioni del comando provinciale di Napoli, hanno intensificato i controlli sull'isola e lungo le coste, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. In campo non solo pattuglie in strada, ma anche motovedette e un elicottero. Nel mirino, soprattutto le irregolarità in mare e la guida incosciente di imbarcazioni. 24 inatanti controllati, 11 quelli sanzionati per violazione al codice di navigazione. Gran parte per guida di grandi imbarcazioni sotto costa e per assenza di dotazioni obbligatorie di bordo. Litorale battuto anche in bici, con le dotazioni dedicate fornite dall'arma dei carabinieri ai comandi capresi. Uno strumento efficace per raggiungere anche le aree più aspre dell'isola e monitorare i luoghi dove il turismo irresponsabile può causare incidenti, come un tuffo su scoglieri pericolose e non vigilate, oppure un barbecu improvvisato nella macchia facilmente preda di incendi. In strada ha arrestato una 25enne di Anacapri. Dovrà rispondere di detenzioni di droga e fini di spaccio. Incinta, era in sera ad una bici elettrica. Avvolta in uno scontrino fiscale, 8 doce di cocaina destinate a clienti dell'isola. Controllati due bar nel comune di Anacapri, denunciati titolari per inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro. Due, i lavoratori in nero individuati e un impianto di videosorveglianza irregolare. Irregolarità rilevate anche in un cantiere di l'inzona Marina Grande, in prossimità del porto turistico. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.